Una partita che, insomma, ci hanno un po' dominato al Milano. Sì, sì, il Milano ha dominato, però al primo tempo ci siamo comportati benissimo, con un atteggiamento, anche a livello tattico. Noi abbiamo conceso tanto, però dopo l'episodio non so, non ho guardato, non so se c'è i rigori, però sono certo che Abate era l'ultimo difensore. Quindi puoi dare i fallo, però puoi dare anche il cartellino rosso, che ha cambiato la partita. Però diciamo che il primo tempo bene, secondo te più o meno bene, dopo il 2-0 secondo me era molto dura. Però pensiamo alla prossima, teniamo il positivo che abbiamo fatto, il primo tempo. Pensiamo alla prossima contro la Lazio, che sarà ancora fondamentale per la salvezza. E non dimentichiamo che siamo ancora a tre punti del Sassuolo, che il Bologna deve giocare stasera. Ma così, però senti, parlavo prima con il collega, da un punto di vista dei numeri, di matematica, di classifica, non siamo assolutamente condannati. Anzi, c'erano sempre tantissimi chance. No, ci siamo. Però da un punto di vista di buonsenso, considerando i risultati ottenuti 5, insomma, si appare difficile. Sono d'accordo, sulle ultime 6-7 partite non abbiamo fatto tanti punti. Però, con l'esperienza che ho, io ho fatto la salvezza a Lecce e posso dire che le cose possono cambiare da domenica a un'altra. Perché se vinci domenica e il Bologna non vinci, sei a pari punti, sei a tre parti della fine. Sarà molto difficile, però è importante che diamo tutto, che abbiamo tutti i giocatori, tutti lo staff. Secondo me l'impresa non è impossibile. Parlando con tanta sincerità, tu che vivi dentro l'ambiente, sicuramente tra di voi c'è sempre questa convinzione che ci si può fare a fare? Sì, sì, sì. O qualcuno, forse, in cuor suo, è già deluso? No, no, dopo non so che ci hanno giocatori nella testa, però a livello di gruppo ci crediamo tutto. Siamo venuti qua, abbiamo fatto vedere dall'inizio che potevamo fare qualcosa qui a Milano, che è molto duro sempre. E niente, ci crediamo. Perché no? Perché avevamo paura? Adesso ci prepariamo, giochiamo alla Lazio e abbiamo battuto le squadre a casa nostra, le grandi squadre. Abbiamo sempre fatto i risultati con le buone squadre, perché no? E quindi proviamoci fino alla sera.